Come sapete, fanno già determinati... E voglio porre questa cosa all'attenzione... Parte un nuovo servizio del Comune di Castellamonte, un taxi sociale. Di cosa si tratta? Il taxi sociale è un servizio che vuole evitare che le persone in necessità sociale e economica della città vengano un pochino abbandonate a loro stesso. Deve servire ovviamente a tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro non hanno un'auto, non hanno la possibilità di guidarlo oppure non hanno accompagnamento né da parte del nucleo familiare né della rete amicale e servirà per il trasporto verso qualsiasi tipo di ufficio pubblico e privato per pratiche burocratiche, ma anche per fare la spesa, andare dal farmacista o anche andare a trovare familiari o amici all'interno del territorio della città metropolitana di Torino. Come fare per usufruire dei servizi? Il servizio sarà gratuito per tutte le persone che ne hanno diritto, le caratteristiche sono diverse, si possono tutte trovare sul sito del Comune di Castellamonte però sostanzialmente le caratteristiche principali sono avere un'ISE che non sia superiore ai 12.000 euro e non avere appunto la possibilità, la disponibilità di una macchina né per conto proprio da parte dei familiari almeno più stretti. Si può chiamare un numero di telefono indicato sulla locandina il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18, anche solo se si dovessero avere dei dubbi o bisogno di informazioni aggiuntive. Abbiamo detto che il servizio appunto sarà gratuito rispettando comunque i acquisiti tra cui l'ISE, al Comune rimarrà a carico invece il carburante? Sì, l'auto l'abbiamo in disponibilità grazie a un progetto che si è concluso pochi mesi fa della cooperativa Astra e sostanzialmente l'auto è in uso completamente gratuito del Comune di Castellamonte per i prossimi 4 anni grazie appunto alla generosità di tantissimi sponsor, anche quelli tutti elencati in locandina quindi non li nomino anche perché avrei paura di dimenticarmene qualcuno. L'unico costo vivo che sarà a carico del Comune è appunto il carburante e quindi diciamo che è una grande fortuna per il Comune di Castellamonte diversamente non sarebbe riuscito a garantire il servizio. Ne approfitto anche per ringraziare i volontari che hanno scelto direi in massa perché per essere il primo esperimento il risultato è veramente notevole abbiamo già oltre 20 volontari che hanno deciso di iscriversi all'albo di volontari comunali e sono le persone che poi effettivamente si metteranno a disposizione al titolo completamente gratuito per trasportare le persone. Anche la Croce Rossa Comitato Locale di Castellamonte offre un servizio di trasporto però di tipo sanitario, quindi differente. Esatto, la Croce Rossa di Castellamonte offre il servizio di accompagnamento alle visite presso studi, medici, ambulatori e ospedali sia in ambulanza sia con vettura disabile. C'è anche la possibilità di essere accompagnati tramite auto la differenza fra noi è un servizio di taxi normale e quello che gli accompagnatori è personale formato quindi ha seguito un corso di formazione per seguire e accompagnare i trasportati e gli infermi. in più gli operatori accompagnano fisicamente il paziente, l'utente da casa quindi anche eventualmente giù dalle scale in ascensore fin dentro il reparto e la sala visita, ovviamente senza fermarsi dentro. Anche questo è un servizio agevolato per le persone comunque che hanno difficoltà economiche? Esatto, il servizio purtroppo è a pagamento perché abbiamo bisogno di un contributo e di un aiuto per mantenere il parco macchine e il servizio attivo tuttavia se l'utente ha un'ISE inferiore a 9.360 euro all'anno la tariffa è agevolata per venire incontro alle necessità perché purtroppo ricarsi verso gli ospedali e in visita è una necessità di molte persone e quindi anche la Croce Rossa Italiana offre un servizio agevolato. Per usufruire del servizio come si fa? Per usufruire del servizio è sufficiente chiamare il centralino dell'associazione in orario diurno dal lunedì al sabato possibilmente con una settimana 10 giorni di anticipo questo perché il servizio è garantito esclusivamente da personale volontario e si consiglia di chiamare appunto il centralino al numero 012451333 indicando tutti i riferimenti del servizio e qualora si volesse usufruire della tariffa agevolata è sufficiente comunicare al centralinista che si ha questa necessità e si verrà poi in seguitori incontentati dall'ufficio amministrativo per tutelare la riservatezza dell'utente. Grazie